Assessore De Fanis, Regione Abruzzo lancia la sfida della cultura al Salone del Libro di Torino, una presenza importante che rafforza il ruolo del Governo regionale e soprattutto dà un grosso stimolo agli editori abruzzesi. Senza dubbio, innanzitutto io sono rimasto meravigliato da questa splendida mostra che non pensavo così grande e così ben nutrita di non solo regioni italiane ma internazionali di tutta Europa. L'Abruzzo sicuramente non sfigura, anzi quest'anno ha un padiglione veramente degno della regione che rappresenta. L'editoria abruzzese è ben nutrita, ho letto e ho potuto vedere dei volumi veramente interessanti, non solo che trattano della storia della nostra regione ma anche della cultura, di persone che magari hanno in questa edizione un vero e proprio trampolino di lancio, dei poeti inaspettati e soprattutto la presenza dell'Abruzzo dopo il terremoto è qualificante, qualificante per la regione e per la giunta regionale guidata da Gianni Chiodi.